Buongiorno, ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fanno TV, questa è la rassegna stampa della nostra redazione, Occhio alla Notizia, che come sempre apre le mattinate insieme alle 7.30 siamo in diretta, quindi è il primo appuntamento che la nostra emittente vi propone in diretta. Allora cominciamo con il Santo del Giorno, oggi la Chiesa Cattolica ricorda, celebra la memoria dei Santi Timoteo e Tito, i due Santi di oggi sono i collaboratori più stretti dell'Apostolo Paolo, ieri abbiamo parlato, era la giornata della conversione di San Paolo sulla via di Damasco e oggi la Chiesa celebra i due più stretti collaboratori di Paolo. Il sole è sorto alle 7.31 e tramonterà alle 17.11. Allora il nostro sito internet, occhio alla notizia.it, propone questa mattina in apertura le previsioni delle cipolle di Urbagna per il 2016 con la protagonista di questa tradizione che ormai non ha nulla di scientifico chiaramente, ma ogni anno la notte appunto che ricorda la conversione di San Paolo mette questo tagliere con i 12 spicchi fuori dalla finestra, rivolta all'Oriente e poi legge il sale, cioè se si scioglie, se non si scioglie a seconda di quello che succede poi dà un'interpretazione, chiaramente ripeto nulla di scientifico. Se volete c'è anche sul nostro sito la previsione delle cipolle. Mentre per quella che si basa su milioni di dati che arrivano e che vengono elaborati da supercomputer che costano anche un bel po' di soldini, ci affidiamo alla protezione civile, in questo caso delle marche, perché ci interessa chiaramente la nostra regione. Allora oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento, domani avremo cielo parzialmente nuvoloso con nuvole basse in particolare nel settore centro-settentrionale, le temperature sono in aumento e la giornata di giovedì vedete 28 di gennaio ancora cielo sereno poco nuvoloso con temperature in ulteriore aumento. Le condizioni di stabilità proseguiranno anche per il resto della settimana con probabile lieve peggioramento per domenica 31, ma questo lo vedremo, speriamo di no perché domenica 31 come ben sapete a Fano c'è la seconda sfilata di carnevale. Allora di che cosa si parla questa mattina sui quotidiani? Si parla un po' di tutto, c'è la cronaca e si parla anche della giornata dedicata alla memoria, la Shoah, vedremo degli articoli tra pochissimo. Ma apriamo il giornale con la pagina, il Corriere Adriatico di Pesaro con le notizie del dopo tragedia, possiamo dire così, quella che è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato dove hanno perso la vita due giovani della provincia di Pesaro. Allora intanto è stata chiesta l'autopsia sul corpo di Federico, il medico non rileva infatti cause esterne che ne spieghino il decesso, forse è stato colpito da un malore, così ipotizza il Corriere questa mattina. Per questo la Twingo, l'auto con a bordo i quattro ragazzi potrebbe essere finita fuori strada causando la morte, la sua morte, quella di Federico appunto e quella dell'amico Claudio Costagliola. Di certo il medico che ieri all'obitorio di Muraglia ha eseguito la ricognizione cadaverica sulla salma di Federico ha chiesto che venga effettuata l'autopsia. Si svolgeranno invece domani nella chiesa di Montecchio e funerali di Claudio Costagliola. E su questo argomento naturalmente anche gli altri giornali pubblicano Carlino per esempio due pagine, noi ne leggiamo soltanto una, quella pagina 3, un'intervista che Damiani ha realizzato, è andato vedete in casa, in famiglia e Matilde Costagliola dice del figlio, lui non voleva guidare, chiaramente non voleva morire. Destino Beffardo, perché Destino Beffardo? Qui davvero viene la pelle d'oca. La mattina quando questa signora è andata fuori casa, si è svegliata alle 5 e mezza, Claudio non c'era, il figlio non c'era, è andata al bar e qualcuno le ha detto che al curvone erano morte due persone, due giovani e lei ha esclamato povera mamma, povera mamma, ma non sapeva che quella mamma era lei. Lo dice anche nel titolo, vedete, povera mamma, ma ero io, questa donna distrutta dal dolore, dice è venuta la madre di Federico a chiedermi anche perdono, la mamma dell'altro ragazzo che è morto. Lei ha risposto che siamo ugualmente straziate, che non c'è bisogno di chiedere perdono e poi racconta naturalmente guardando nel tablet qui sotto, vedete, sfoglia le fotografie, ci si aggrappa qualunque cosa, insomma le fotografie di questo figlio che non c'è più, con le immagini di momenti di festa, di gioia e il figlio eccolo qua in questa fotografia, Claudio Costagliola. Andiamo avanti con il giornale, l'altra, sempre su questo argomento, il messaggero Federico niente traumi, autopsia per chiarire le cause della morte, l'incidente del curvone non c'è nulla a osta per il funerale del ventenne, domani a Montecchio invece l'ultimo saluto a Claudio. E qui vedete alcune fotografie del luogo dell'incidente, il curvone a Pesaro dove qualcuno ha messo dei fiori legati all'albero dove si sono schiantati con l'auto, la Twingo venerdì notte, sabato mattina. Foto, lettere, mazzi di fiori continuano a essere lasciati sul luogo dello schianto. Torniamo sul resto del calino a pagina di Fano. Sull'incendio il pesce azzurro il processo torna a Pesaro, pezzolesi 500 mila euro di danni, sotto invece si parla di unioni civili, unica speranza per restare in Italia. Fausto Schermi e il tema che divide il paese. Io ed Elvin stavamo per andare in Olanda, meglio due genitori omo che amano il figlio di una coppia etero che però li rifiuta. questo è il suo pensiero. Fausto Schermi con Elvin Vandic, che li vedete, qui sono in questa fotografia, trascrivono il loro matrimonio nel registro dello Stato civile del Comune di Fano, poi è arrivata la richiesta di cancellazione del Tribunale e della Corte d'Appello. Anche qui le cipolle, le cipolle che vedono poca neve e tanta siccità, sempre più difficile leggerle, dice Emanuela Forlini, il sale non si scioglie bene, avremo comunque un agosto super bello. La maestra, perché fa così, fa questo di mestiere insegna, quindi fa la maestra, fa rivivere il rito di famiglia. Tra l'altro sotto si ricorda che nel 2015 è andata bene perché è stato azzeccato il 70% delle tendenze, l'estate senza pioggia e l'inverno senza neve, così come da previsione appunto di Urbania. Dicevamo della giornata della memoria, per ricordare Bickernau e chi sopravvisse. Domani, giornata della memoria, la compagna di Shlomo Venezia incontra le scuole, mentre lo vedete in questa immagine, che lo ritrae con sullo sfondo le camerate dei campi di sterminio. E sempre su questo argomento anche l'altra pagina di Fanno e Valle del Cesano ricorda Teresa, madre coraggio, che sfidò i nazisti, salvò otto ebrei. Fratte Rosa le dedica una via, per oltre otto mesi nascose in casa, un'intera famiglia, davvero molto coraggiosa. Nella sala consigliare ci sarà l'incontro tra i suoi figli e una delle persone che allora ovviamente era una bambina. A Marotta, piano marina dove le fogne scorrono a cielo aperto, un tour dei 5 stelle nel degrado del quartiere e qui la gente si sente abbandonata. E chiudiamo il resto del Carlino con il pasticcio sulle maxibollette. Colpa di Aset, l'accusa di bene comune. Il sindaco Seri tutela gli utenti deboli o i suoi utili? Nei casi di perdite occulte, tranne però che nella zona coperta da Aset c'è una disciplina unica. Tutto questo nasce dopo che quella donna di 92 anni si è vista per recapitare una bolletta di quasi 6.000 euro. Torniamo sul Corriere Adriatico. Adesso la pagina di Pesero e Provincia. Fossombrone. Pirati informatici e truffatori fanno saltare i desktop, poi chiedono 500 euro per risolvere il guasto. La vicenda denunciata da dirigenti di azienda e da privati tecnici. Ecco come scoprire l'agguato. Poi sulla pagina invece di Fano del Corriere si parla del carnevale, della prima domenica di carnevale. Grandi allegorie riciclate e satira assente. Poco tempo e pochi soldi hanno avuto i maestri carristi per questo carnevale 2016. È un po' come aver visto uno spettacolo già andato in scena, una cosa già vista. I due carri rivisitati lasciano in espresse le intenzioni ironiche, le strutture base sfilano per la quarta volta, l'imperatore con il volto del sindaco usato per il pupo, così si rischia di perdere i turisti che tornano a Fano. Questa è l'analisi di Lorenzo Furlani che non è poi del tutto impietuosa. A vedere anche le immagini di ieri, chiaramente alcune cose erano un po' come dire, giustamente sì, è uno spettacolo già visto, però l'importante è che in questo periodo, che è anche un periodo molto difficile, non dimentichiamocelo, dove la gente fa fatica ad arrivare a fire mesi, quindi bisogna stare attenti anche nelle scelte, eccetera, quindi dove spendere i soldi. Sapete che ancora il carnevale vive con i soldi pubblici del comune, quindi non si può pretendere troppo. Mentre diverso sarebbe se l'ente carnevalesca fosse un ente che ha un proprio patrimonio, quindi riesce a gestire la manifestazione economicamente da sola e allora sarebbe chiaramente criticabile. Ma qui stiamo usando ancora i soldi della gente, i soldi del comune e quindi i soldi di tutti noi, quindi dobbiamo fare i conti anche con le ristrettezze economiche. Il getto è stato criticato da qualcuno, getto povero, la città senza segni della manifestazione. Beh, in realtà anche qui bisognerebbe dire che i segni ci sono e ci sono anche nelle rotatorie più importanti, quindi negli ingressi principali della città. Il problema è che spesso chi viene da fuori, non conosce la città, non conosce il carnevale, non sa cosa siano quegli oggetti nelle rotatorie, quindi basterebbe metterci semplicemente una scritta o qualche cosa che indichi che quelli sono dei prendigetto. Sono due simboli della manifestazione del carnevale, quindi ci sono i segni ma non sono scritti, non sono specificati. Oggi invece l'addio a uno dei maestri più importanti del carnevale di Fano, a Valerio Ferretti, un'arte da rimpiangere. Si svolgeranno i funerali alle 15 nella chiesa di Madonna Ponte, alle 3 del pomeriggio appunto i funerali del maestro carrista scomparso nella serata di venerdì scorso all'età di 75 anni. Poi i furti, vi segnaliamo quello di Prodi Sport, una persona ha rubato un giubbotto e ha cercato di venderlo poi su Facebook, il colpo sabato pomeriggio da Prodi Sport, poche ore dopo la denuncia la polizia incastra questo padre di famiglia che appunto tentava di farci due soldini insomma con questo giubbotto rubato poco prima. Andiamo sull'altra pagina del Corriere, ostetricia, criticità anche qui sanità ospedale, criticità anche nel nuovo reparto, la sala parto separata da quella operatoria di ginecologia, di notte in servizio un solo medico, lavoro in corso nel padiglione B dove il trasferimento è stato annunciato per marzo dalla direttrice Capalbo. Apriamo adesso invece l'altra pagina, Fano e Valle del Cesano, anche qui da Fratterosa, giornata della memoria, l'omaggio a Teresa Giovannucci, poi sotto da San Lorenzo in campo, Tiberini e la Concordia, due gioielli, teatri di San Lorenzo e San Costanzo, scelti dal FAI per il loro interesse storico e turistico. Chiudiamo con Senigallia soltanto per la pagina principale, stroncato a tre castelli, stroncato da un malore mentre balla con la moglie, addio a Mauro Morganti, 58 anni, tipografo di tre castelli, sabato sera si è accasciato in un dancing di Mondolfo, inutili per lui i soccorsi. Mauro Morganti, socio della tipografia 75 di Serra dei Conti. E chiudiamo con il messaggero, la pagina di Pesaro, ospedale unico, sfida a Ceriscioli. Nella quereltra Pesaro e Fano si inserisce anche Urbino, il sindaco dice cerca lo scontro, anche i medici contro il governatore parlano di atti contradditori. Oggi c'è l'audizione per la Capalbo, che è il direttore generale dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Sulla VL la fotografia beffa a Pistoia, finisce 77-75, poi hackerati, violati, i computer, i siti dei comuni di Tavoletto e di Monte Grimano. Sporta denuncia contro i gnoti, ore di blackout, poi finalmente arriva il ripristino. Anche qui le cipolle, che annuncia un'estate bollente e poche piogge. Aspettiamoci una coda dell'inverno a partire dalle metà di febbraio. E poi la pagina di Fano, invece, Maxi Bolletta, scontro tra Bene Comune e Aset. L'associazione contesta i criteri di gestione adottati. E poi anche qua, a Marotta, muore al dancing, ballando con la moglie, un tipografo di 57 anni, Mauro Morganti. Poi l'addio al carrista fanese Ferretti, alla Madonna del Ponte. E sotto, ecco, ancora la cronaca, il video che incastra il ladro di Prodi Sport. La polizia bastano poche ore per risalire all'autore. E poi Shoah, il monito del Vescovo Trasarti. Oggi e domani una serie di iniziative per la giornata del memoria. Tutto, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Occhio ai giornali torna domani mattina, come sempre, alle 7.30. Questa sera ci vediamo invece per il telegiornale alle 20.30. Occhio alla notizia, arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS